Ecco ragazzi facciamo un esempio di analisi per quanto riguarda la patente è un esempio quindi è un pezzo che vi ripeto che non sarà nel test ma è un'idea per darvi un'idea di come si fa l'analisi nei circa 5 minuti 5-10 a seconda poi se il formative di esame, insomma il range è questo quindi prima di tutto quello che vi deve interessare in questa analisi è la struttura e quali elementi tipologici vado a prendere, non il pezzo esatto in sé immaginiamo di dover analizzare questo che vi capiti, questo brano da qui a facciamo qui una roba di questo tipo, sono circa 10 righe, anzi estendiamone un po' perché magari vi capita una parte un po' più lunga per avere un'idea iniziamo a questo punto l'analisi questo brano viene dalla patente di Pirandello la patente è una novella scritta appunto dall'autore siciliano e che ha come protagonista il giudice d'Andrea e Rosario Chiarchiaro che vuole, quest'ultimo vuole il riconoscimento della sua potenza quella che immagina essere la sua potenza, di iettatore attraverso un processo quindi la vicenda si apre con il giudice d'Andrea che ci introduce questa problematica del processo intentato da Rosario Chiarchiaro contro dei presunti, contro dei cittadini che lo avrebbero offeso facendo scongiuri al suo passaggio e il giudice convoca Chiarchiaro a questo punto stanno parlando Chiarchiaro e il giudice d'Andrea e nel momento in cui, nel brano che ho da analizzare inizia il giudice lo guardò più imbalordito che mai è il momento in cui il giudice d'Andrea ha già parlato con Chiarchiaro che è già arrivato si è già mostrato con tutto l'abbigliamento da iettatore e quindi lasciando scioccato il nostro giudice che non si aspettava un abbigliamento di questo tipo visto che il tipo di processo intentato, cioè nel senso diffamazione perché Chiarchiaro viene creduto uno iettatore e Chiarchiaro invece si presenta come iettatore qui il giudice ha appena scoperto come il nostro Chiarchiaro sia andato dagli avvocati difensori dei due imputati per fornire tutte le prove del caso per rendere più sicura la loro soluzione capisco anche meno di prima, ma come per rendere più sicura la soluzione di quei giovanotti e perché allora vi siete querelato? qui abbiamo le prime domande che il giudice pone su questo punto a Chiarchiaro è interessante come Pirandello utilizzi l'aggettivo imbalordito non è l'unico pezzo in cui il nostro giudice d'Andrea si troverà in questa situazione perché questo è il gioco di Pirandello nella patente dare l'impressione di come il giudice si trova in realtà via via sempre più in difetto nei confronti di Chiarchiaro che è invece sicuro della sua situazione Chiarchiaro sta è consapevole della maschera che il maschera tipico tema di Pirandello della maschera che gli è stata messa addosso e quindi del fatto di essere per tutti un oiettatore vuole approfittarne e questo ribalta il luogo comune il nostro D'Andrea che dovrebbe essere il giudice, che dovrebbe essere la persona che sa tutto a questo punto invece è la persona in difetto che non sa abbastanza quindi queste tre domande, ovviamente tre, tre è sempre un numero simbolico e quindi rafforza, la ripetizione rafforza e sono tutte e tre volte allo stupore già come si capisce dall'imbalordito e dal capisco anche meno di prima ma come? Quindi per rendere più sicura la soluzione e perché allora vi siete querelato quindi ricomincia, si sta già ribaltando la situazione il giudice D'Andrea doveva convincere Chiarchiaro a ritirare la querela e adesso invece chiede per quale motivo si è querelato il Chiarchiaro abbia un prorompimento di stizza per la durezza di mente del giudice D'Andrea è interessante a questo punto il lessico utilizzato da Pirandello per rafforzare la reazione di Chiarchiaro già il nome Chiarchiaro è significativo perché è un nome ripetuto a questa sonorità strana mentre D'Andrea è un nome talmente semplice da essere un nome di battesimo semplicemente con la D con l'apostrofo che lo anticipa il nome Chiarchiaro invece ha questa sonorità e questo accento che lo rendono misterioso in qualche modo che lo rendono anche foneticamente strano a sentirsi comunque qui sottolinea il prorompimento di stizza stizza per indicare la rabbia che ha Chiarchiaro è ovviamente una parola non scelta a caso anche perché la sonorità ci rimane più in testa in contrasto con la durezza di mente del giudice D'Andrea quindi stizza e durezza sono tra l'altro contraddistinte dallo stesso suono zeta che si ripete e che ci rafforza quest'idea della durezza del fatto che D'Andrea non capisca si va in piedi gridando con le braccia per aria e già il gesto è significativo perché appunto si alza in piedi Chiarchiaro e alza le braccia diventa ancora più alto ma perché io voglio signor giudice un riconoscimento ufficiale della mia potenza non capisce ancora? qui la domanda retorica ci fa immaginare visivamente la situazione di D'Andrea ancora stupito voglio che sia ufficialmente riconosciuta questa mia potenza spaventosa che è ormai l'unico mio capitale questa è un'affermazione molto forte vuole il riconoscimento della mia potenza spaventosa l'aggettivo spaventosa è significativo perché mette l'accento sul fatto di come siano spaventate le persone di fronte alla potenza della iettatura di Chiarchiaro che ormai è appunto l'unico suo capitale e ansimando protese il baccio batte forte sul pavimento la canna d'India e rimase un pezzo impostato in quell'atteggiamento grottescamente imperioso elemento molto importante che ci fa toccare il tema del comico e dell'umerismo in Pirandello l'atteggiamento grottescamente imperioso cioè il nostro Chiarchiaro vorrebbe provare ad essere in piedi dritto come una statua ma risulta grottesco quindi risulta comico dal suo punto di vista e qui poi emerge continuando a leggere emergerà l'umorismo secondo Pirandello perché questo aspetto comico che viene percepito da Andrea perché il giudice d'Andrea si curvò si prese la testa tra le mani commosso e ripete povero Chiarchiaro mio povero Chiarchiaro mio bel capitale e che te ne fai che te ne fai questa ripetizione del che te ne fai ci indica l'ironia con cui D'Andrea la bonarietà con cui D'Andrea guarda alla reazione di Chiarchiaro prendendolo un po' per uno sciocco che considera l'essere preso per riettatore un capitale e questa reazione di D'Andrea conferma l'effetto comico appunto della posizione di Chiarchiaro l'effetto comico a questo punto che poi più avanti verrà ribaltato in umorismo quando scopriremo come Chiarchiaro sia consapevole di questa sua scelta l'abbia percorsa volutamente per poter riuscire ad uscire dalla sua situazione di disagio dalla situazione di disagio e quindi, scusate, Chiarchiaro rivelerà di avere la moglie malata di essere mantenuto dal figlio di non sapere a chi far sposare le sue figlie e questo cambierà totalmente la prospettiva vedremo dietro al comico vedremo quello che Pirandello chiama l'umorismo cioè il rendersi conto che dietro al comico c'è un aspetto umano che molto spesso è triste che molto spesso è fatto di sofferenza e questo è uno dei temi centrali che compongono quest'opera la patente di questa novella e uno dei temi centrali anche di tutta la poetica di Pirandello insieme, come appunto abbiamo detto alla maschera che viene in questo caso indossata da Chiarchiaro Chiarchiaro diventa consapevole di portare una maschera e la sfrutta a suo vantaggio è una delle possibili reazioni suggerite da Pirandello nelle sue opere quello di chi si rende conto della maschera può, in qualche caso sfruttarla a suo vantaggio grazie a tutti grazie a tutti